Friends 23. The Prof Draw The First Classifiche. Questo è chi ha conquistato il primo posto tra i cantanti e i ballerini. I nuovi amici di Amici hanno iniziato domenica 24 settembre. Per comporre la nuova classe di studenti. Sono stati scelti 20 alunni. Di cui 11. Specializzati nel canto e 9 nella danza. Un primo episodio che è stato seguito da molti spettatori. segnando un boom di ascolto. Dopo questo primo entusiasmante primo momento. I ragazzi scelti per il talent show hanno dovuto iniziare a gestire le difficili dinamiche della scuola. In effetti. Maria De Filippi li ha avvertiti dell'esistenza una prima classifica merito. disegnata dai professori durante il primo episodio The Talent Show. Nel frattempo hai cantato e fatto la tua esibizione. Ognuno loro ha dato un voto a ciò che hanno sentito. Per quanto riguarda il canto. I più ammirati dai professori erano Matthew. Mentre i migliori nel campo della danza erano a Parimenito Dustin e Marisol. Nelle cantanti che ottenne i peggiori voti Mida. Mentre nella danza c'erano di nuovo un Parmi e nell'IL passo più basso della classifica del merito. Sia Nicolas che Chiara. Io canto Spacey Piez 6 Sara 6 Oli Francisco 6 Stella 6.5 Lil Jolie 8 Danza Nicolas 4 Chiara 4. Kumo 6